Buonasera, questo video vuole essere una risposta a un commento che ho ricevuto nell'ultimo video che ho fatto dove parlavo dei musulmani quando ho detto che rispetto ai musulmani mi è stato inviato un commento non vada con i cattolici, perché non va con i talebani innanzitutto io ho specificato che non sono musulmana, non lo sono ho fatto dei video sull'islam, ho parlato della storia dell'islam, di Mahometto, della sua funzione storica avrei potuto parlare anche degli antichi romani, della storia di Giulio Cesare, della storia di Cleopatra avrei potuto parlare anche della storia degli antichi vichinghi e delle divinità norrene non per questo mi metto ad adorare Thor oppure Odino la differenza è che con i musulmani l'islam fa parte delle cosiddette religioni abramitiche che significa che l'islam, cristianesimo ed ebreismo derivano tutte da un unico progenitore, Abramo Abramo è il fondatore dell'ebreismo Abramo ebbe due figli, uno dalla prima moglie, dalla moglie Sara ed è Isacco il capostipite degli ebrei poi ebbe un altro figlio, Ismaele dall'ancella Agar in realtà Ismaele è il primogenito perché lo ebbe prima di Isacco Ismaele divenne il capostipite degli arabi quindi ebbe dodici figli e si dice che tutte le tribù dell'arabia settentrionale discendono da Ismaele che è nominato sia nella Bibbia che nel Corano quindi questo è un fatto storico non è un fatto religioso è anche religioso perché la Bibbia e il Corano ne parlano ma ricordo che sia la Bibbia nel Corano che il Corano sono anche libri storici e non solo la parola di Dio la Bibbia e la storia del popolo ebraico mentre nel Corano sono riportati i fatti riguardanti sia il popolo ebraico sia la storia, la nascita di Gesù sia diciamo i vari comandamenti divini che Maometto trascrisse e poi la prima versione del Corano sotto il califo Otman nel 650 d.C. Bene, premesso questo il fatto di averne parlato io riconosco che tutte e tre le religioni fanno capo cioè fanno riferimento ad Abramo come padre della fede ora riconoscere questo che significa? significa essere islamica? no io anzi ho detto che non comprendo l'islam radicale mentre sono d'accordo con una visione moderata dell'islam non sono islamica sono propendo per i testimoni di Geova questa è la Bibbia dei testimoni di Geova traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture che io leggo tutti i giorni regolarmente perché io sono convinta che quali siano le profezie che riguardano i nostri giorni sorgerà fratello contro fratello l'amore del più si raffredderà quindi sono tutte profezie che in questi giorni si stanno realizzando già lo vedo attraverso i commenti chi è il mio Dio? mi è stato detto che il suo Dio la benedica il mio Dio è Geova il suo nome è la traduzione dall'ebraico Yahweh Dio si presentò a Mosè sul Sina io sono colui che sono ma è lo stesso Dio adorato dai musulmani ed è lo stesso Dio adorato dagli ebrei solo che gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù e questo è stato il loro errore diciamo perché non hanno riconosciuto che Gesù è il Messia noi attendiamo la parousia ovvero il ritorno di Gesù lo attendono anche i musulmani e dicono anche loro che è il Messia quindi vi sono dei punti in comune ma non bisogna disprezzarli perché se si disprezzano gli altri disprezzare il fratello significa non avere parte nel regno di Dio se io dico a un musulmano sei mio fratello io non sono musulmano io rimango cristiana ma lui è mio fratello perché adoriamo lo stesso Dio un cattolico non è mio fratello perché è un'idolatra quindi questa è la realtà idolatra nel senso che Venere adora Padre Pio adora la Madonna adora le creature e non il creatore quindi questa è una puntualizzazione che intendevo fare non sono talebana non sono musulmana non porto il velo anche se ho tagliato i capelli e ho già spiegato perché leggo la Bibbia tutti i giorni almeno un versetto penso che la vita cristiana sia questo cioè prepararsi a quello che sono le profezie bibliche stiamo vivendo negli ultimi giorni per chi volesse sapere faccio riferimento al capitolo 12 e 13 dell'Apocalisse e il capitolo 24 di Matteoli del Vangelo di Matteoli sono scritte le profezie bibliche quelle che si stanno realizzando in questi giorni e già i commenti si vedono dei commenti che dicevo si vedono che l'amore del più si riaffredderà ed è ciò che sta avvalendo quindi io non sono musulmana ripeto simpatizzo con i testimoni per me l'Islam è stata una religione fondata da Mometto che come ho detto ha avuto il merito di diffondere il monoteismo tra i pagani questo è tutto perché erano pagani la maggior parte delle tribù arabe erano politeiste e pagane quindi il paganessimo è l'idolatria come dice anche l'apostolo Paolo Paolo di Tarso non sacrificate agli idoli quindi anche nella Bibbia si condanna l'idolatria e il paganesimo cosa disse Dio Mosè non avrai altri dai all'infuori di me quindi testimoni di Giove musulmani sono le religioni più vicine a Dio con questo è tutto vi saluto mmm Grazie a tutti.